ciao a tutti io sono stefano giubelli e io sono giuliano siamo i titolari di just limo una piccola azienda familiare nata dalla passione per i motori e specializzata nel noleggio di auto per eventi e matrimoni qui potete vedere un piccolo esempio della nostra flotta che comprende dalle piccole auto d'epoca degli anni sessanta passando per le cabriole a due e quattro posti le sportive come porsche e ferrari fino ad arrivare alle grandi auto blasonate come jaguar bentley e la nostra limousine che è un auto molto particolare dotata di ogni comfort e addirittura un bar interno per un aperitivo con gli amici o con i testimoni ci trovate a castiglione delle stiviere in provincia di mantova venite a trovarci vi aspettiamo per vedere scoprire le nostre proposte per il vostro arrivo trionfale e e e e e e e e e